Il prof. Giuseppe Capuano Il direttore della clinica ostetrica dell'Università di Napoli Che ha assistito al parto della mamma del futuro re Vittorio Emanuele Rez Che è nato a Napoli nel 1860 Eccezionale Qualche altro personaggio? Il figlio risorgimentale è ricordato per essere stato il 49 di Napoli Ma soprattutto perché successe in Casotto Quando ai suoi furigami entrarono alcuni suoi amici sostenitori e ammiratori Con la bambina di Napoli Grazie 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.